Cos'è il paradosso del gatto di Schrödinger? Scopriamolo insieme. Immaginiamo di inserire un gatto dentro ad una scatola di acciaio, in cui è contenuto anche un apparecchio redattivo che al 50% avrà un atomo decaduto e al 50% non avrà un atomo decaduto. Questo apparecchio poi sarà collegato ad una fiala contenente del velenosissimo cianuro. Se l'atomo decade, questo apparecchio romperà la fiala ed ucciderà il gatto. Se invece l'atomo non decade, l'apparecchio non distrugge la fiala e il gatto sopravvive. Ecco, per come è stata teorizzata la meccanica quantistica, l'atomo non è né decaduto né non decaduto, ma viene considerato sia decaduto che non decaduto in una sorta di stato miscelato finché non viene osservato. Di conseguenza, in teoria, anche il gatto che è direttamente collegato all'atomo radioattivo dovrebbe essere contemporaneamente sia vivo o sia morto. Ma questa cosa è paradossale, perché un gatto può essere o vivo o morto. Ecco perché nacque questo paradosso, per evidenziare i problemi tra la meccanica quantistica e il mondo macroscopico.